Purezza e castità, innocenza nell'animo e amore senza segreti. Se poi le rose Evalanche, bianche, disegnate sul formaglione, sono tante, il significato aumenta di smisura, facendo dimenticare che Evalanche significa valanga e così si chiamava quella comandata dal generale Alexander, che non inventò nessun cocktail, sbarcando in Italia con le sue truppe nel 1943. Chiacchiere, per non entrare nel dettaglio tecnologicamente avanzato del follower di Twitter, che dubitano sull'equa assegnazione del prezioso capo di abbigliamento che avrà fatto o no un passaggio in lavanderia. Il fatto è che il pullover che mi hai dato tu è finito nel guardaroba dell'ingegnere Abate, che è marito di una stretta collaboratrice del Celeste, e già ci si chiede perché ha cambiato il suo colore. In tempi di antipolitica, tempo un nanosecondo ed ecco l'accusa di pastetta che lo stesso Formigoni ha provveduto a smentire, facendo ricontrollare le posizioni dei follower di Twitter. Risultato confermato. Il vincitore era il posto 41.650, che, al netto dei fake, corrisponde al 40.000 netto. Tutto chiaro, senza trucco, senza inganno. Se non fosse che il solito amico che svergogna la tua ignoranza multimediale ti suggerisce che il numero di follower non è così fisso. Insomma, che è impossibile stilare una classifica esatta, anche se ci fosse il notaio dei pacchi. E così il pacco, questa volta nel senso di regalo, rimane all'ingegnere. La rivincita, tra poco, con in palio la ben più storica giacca arancione. Un caso che sia il colore dei suoi avversari politici. A noi, una domanda è una certezza. Domanda, ma chi si è lamentato di non avere vinto un maglione nero con rosetto bianco? Certezza. Seguiremo l'esempio del governatore e ci dedicheremo ad un for pranzo. E con dispetto ai lavoratori del settore caseario che ne rivendicano la primo genitura, lo chiederemo con un tocco di for maggio. Grazie.